una torta che si prepara in pochissimi minuti soffice, profumata, umida, cremosissima la torta con ricotta, cioccolato e farina di mandorle si prepara in pochissimi minuti ma soprattutto è buona buona per prima cosa lavora le uova intere con lo zucchero devono risultare chiare e spumose aggiungi la ricotta io ho utilizzato della ricotta fresca vaccina e lavora ancora il composto con le fruste elettriche aggiungi la farina di mandorle in alternativa puoi tritare delle mandorle intere spellate il sale la scorza grattugiata di un limone bio o in alternativa la scorza grattugiata di un'arancia o ancora dell'estratto di vaniglia le gocce di cioccolato fondente e mescola il tutto fino ad avere un composto omogeneo rivesti con carta forno uno stampo, questo è di 20 x 25 cm e versa il composto termina con le mandorle in lamelle e metti in forno a 180 gradi statico per circa 40 minuti lascia raffreddare prima di sformare taglia cubotti prima di portare in tavola e voilà grazie a tutti